Ed eccoci tornati insieme, come promesso con il primo videocollegamento di oggi, abbiamo con noi Valeria Di Meglio, scrittrice ed autrice di diversi titoli, quello su cui ci concentreremo oggi è Cicca in Parmigiana, nella giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Ecco Valeria alla mia sinistra, buongiorno e bentrovata. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno alle persone che ascoltano e guardano. Grazie a te per la disponibilità, già in apertura avevo sottolineato come oggi celebriamo questa giornata mondiale della gastronomia sostenibile e come tu nello specifico in questi anni ti sei spostata da un paese all'altro, da una nazione all'altra per farti contaminare dalla gastronomia internazionale. È un po' questo il senso di Cicca in Parmigiana? Sì, il senso di Cicca in Parmigiana è proprio il vedere come ogni ingrediente e anche noi poi alla fine può essere autoctono e straniero insieme. Quindi io mi sono imbattuta in questo piatto australiano Cicca in Parmigiana e mi sono chiesta da dove venisse, quindi poi ho scoperto la matrice italiana e poi sono andata più lontano, più lontano insomma guardando anche la nostra parmigiana di milanzane che alla fine sì è un piatto identitario, però comunque se ci soffermiamo sugli ingredienti vediamo che vengono d'altrove, tipo le milanzane che le hanno portate gli arabi, che a loro volta le hanno portate dall'India, il pomodoro dalle Americhe, insomma c'è tutta questa riflessione qui. È un po' come per le persone, no Valeria? Tante volte ci rendiamo conto di quanto sia stupido essere razzisti perché la storia dell'uomo è una storia di migrazioni, di viaggi, di trasferimenti e un po' lo stesso accade per il cibo e in maniera particolare per quei prodotti di cui hai parlato tu. Sì, è proprio questo confronto continuo con l'alterità per scoprire delle similitudini che ci uniscono e poi delle differenze che ci arricchiscono alla fine, quindi sì, questo spirito di continuo confronto scoperta e riscoperta e che poi alla fine noi ci poniamo delle domande rispetto agli ingredienti quando abbiamo un piatto davanti, tipo se sono a chilometro zero, che questa è una cosa fondamentale soprattutto per la costruzione sostenibile, però un passo in più da fare è anche porsi delle domande sull'origine di questi ingredienti, sulla storia di questi ingredienti, sull'antropologia di questi ingredienti perché così ci rendiamo conto insomma di quanto la storia ci unisce invece di dividerci e di quanto siamo autoctoni però stranieri allo stesso tempo, questa è la propria mia storia. Molto bella questa riflessione, ma raccontaci di te, che cos'è che ti spinge in giro per il mondo? Allora, io attualmente sono collegata da Lille, quindi dove passo la maggior parte del tempo, ho un legame molto forte con la mia terra di origine, quindi Procida, ho avuto un papà marittimo che quindi mi ha un po' incoraggiata anche a viaggiare e a esplorare il mondo e poi anche una mamma che è sempre molto, con valori molto forti legati alla cucina, quindi con queste due componenti sono potuta andare a esplorare il mondo per cercare sempre stimoli nuovi sul viaggio, sull'incontro e sulla cucina e poi l'interesse per le lingue, anche le lingue come mezzo di comunicazione. L'immagine che vedete sono le paranze procidane, quindi la terra da dove vengo ed è un punto di partenza. Straordinario, diciamo che sei stata fortunata a nascere in un posto bello come quello, ecco, poi queste foto ce ne danno una dimostrazione, una dimostrazione plastica. Questo è in Ecuador, sì, il cui, quindi il porcellino di India in Ecuador, quindi vedere queste donne che hanno passato una mattinata a cucinare queste pietanze per noi e quindi poi condividerle con questa pampa mesa che è una tavola comune in lingua chichua dove c'è questa tovaglia per terra per essere in connessione con la terra e dove tutti si mangiano, diciamo, stando allo stesso livello. Molto bello. Colo grano, il motte. Hai presentato Cicca in Parmigiana solo qualche giorno fa, proprio a Lilli, in Francia, da dove sei collegata con noi, ma come ci stavi raccontando e come stavamo vedendo anche dalle foto, hai girato in lungo e in largo per il mondo. Che cosa ci dobbiamo aspettare, quindi, di trovare tra le pagine di Cicca in Parmigiana? Allora, può essere una sorta di diario di viaggio, quindi, una storia degli ingredienti anche, anche per esempio mi hanno molto incuriosita degli ingredienti che sembrano tipici, caratteristici di un posto, anche industriali, che poi io propongo delle alternative per farli in casa, che sono stati degli ingredienti indotti alla fine, quindi c'è un po' questa storia qui dal punto di vista sociologico-antropologico e poi ci sono delle ricette. Quindi è un libro che... I librai, in genere, mi dicono che è difficile collocarlo sugli scaffali di una libreria, perché ci sono queste diverse componenti, quindi tra autobiografia, diario di viaggi, libro di ricette... Quindi è un libro complesso, però nello stesso tempo penso di avere uno stile abbastanza accessibile, quindi si legge facilmente, diciamo. Molto bene. Leggo, appunto, a proposito del libro, che è un po' come ritrovare il senso di casa altrove e come si può portare l'altrove a casa. E, correggimi se sbaglio, all'interno del libro c'è questo viaggio addirittura su tutti e cinque i continenti. Quanto tempo ti è servito per, ecco, portare alla luce quest'opera? Allora, all'inizio io non pensavo di farne un libro, perché ho un blog, quindi raccoglievo alcuni elementi sul blog, poi ho un taccuino dove manoscrivo, scrivo a mano, insomma, tutti i vari pensieri, le varie riflessioni, i posti che mi hanno maggiormente incuriosita. Quindi i viaggi si sono fatti nell'arco di, penso, una decina d'anni alla fine, senza avere dietro l'idea del libro. Però a un certo punto mi sono soffermata sul fatto che mi sono detta ho visto cinque i continenti, ho assaggiato le cucine di questi cinque i continenti, si può provare a tracciare un percorso, insomma, a dare un senso a questo viaggio, un senso un po' più profondo, diciamo. Bene, molto bene. Siamo davvero felici che hai racchiuso tutta questa esperienza decennale su cinque i continenti in un libro che tutti quanti possiamo avere tra le mani, sfogliare e leggere in questi mesi estivi. Quindi ti ringraziamo per essere stata con noi e per questo tuo viaggio nel mondo della gastronomia sostenibile. Possiamo seguirti dove? Oltre che attraverso appunto le pagine dei tuoi libri, dicevi che hai un blog, sicuramente anche i canali social. Sì, il blog Amma Cushona, quindi ammacushona.it e poi c'è il canale Facebook, Instagram, però non sono attivissima, diciamo, io so più che altro ogni tanto per condividere eventi legati al libro oppure qualche foto di viaggio e quindi al centro ci sono sempre le relazioni di persone e poi per essere aggiornati sugli eventi e queste cose qui ci sono i vari canali social quindi legati ad Amma Cushona soprattutto. Ecco, proprio per questo ci farà piacere seguirti, quindi Valeria ti auguriamo di continuare il tuo viaggio nel mondo del gusto e della gastronomia e di continuare a regalarci appunto le tue esperienze di vita e di cucina. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille, grazie dell'invito ancora una volta e grazie alle persone che hanno ascoltato. E allora arrivederci, arrivederci a presto, buona giornata anche a te. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante ma ci ritroviamo subito insieme perché come detto oggi giornata mondiale della gastronomia sostenibile torneremo a parlare di cibo attraverso altre esperienze ed altri esperti. A tra pochissimo.